C'è bisogno, perché se noi vogliamo parlare di turismo e non abbiamo le guide, tra questi sono specialistiche, nel senso che sono guide ambientali, quindi ci portano a visitare tutti gli ambienti costieri e non solo, collinari e montani. Allora, quando arriva il turista, al di là della guida turistica, che è una guida turistica con l'aggiunta della conoscenza dell'ambiente, e questo è uno dei motivi perché la ConfCommercio continua ad essere sempre più espansiva verso le organizzazioni imprenditoriali, tra questi possiamo dire che grazie a Guglielmo, al nuovo presidente, noi metteremo insieme una serie di opportunità di lavoro che serviranno poi a trascinare e a veicolare il turismo costiero, non solo, ma anche quello enogastronomico. Quando una persona è a conoscenza del nostro territorio, dell'ambiente in particolare, può anche essere la guida per le cantine, per gli orifici, i frantoi, eccetera, eccetera. Tutti parlano di benessere nella comunità, ma se questo benessere della comunità nessuno lo conosce, diventa un problema. Io credo che questa sia stata una delle iniziative più intelligenti che la ConfCommercio nell'ultimo periodo ha fatto. Beh, sta nascendo una nuova realtà, grazie anche a questo corso che stiamo organizzando per la Lagap, che è un consorzio che si occupa da molti anni di escursionismo professionistico, e dunque stiamo per partire con questa nuova iniziativa. Il corso è organizzato bene o male per tutti quelli appassionati di montagna, che da molti anni praticano queste attività e si vogliono avvicinare al mondo del professionismo. È fatto, sarà organizzato all'incirca per una didattica di 320 ore. Avviamo, diciamo, all'interno incorporato dei docenti importanti, dall'Università d'Annunzio a, per esempio, la Torre del Cerrano, l'Area Marina Protetta, FederalBerry, la ConfCommercio, ovviamente, la nuova ConfGuide.